Il mio figlio è il mio figlio E allora lo chiederemo in un altro modo No, oh shit! Dai! Ma che cavolo è? Missile delle Axe! Ma un dizio lo chiederemo sette volte a uno solo Te lo giuro È troppo divertente, Damiano Dai, madafucca! Non è l'America Oh mio figlio Il fatto non è che il senso Cosa? Oh! 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 ha rotto il bene come fa poi a bene ma che ma che costa non colpire me ma cosa perché Joey do you don't defendere a me ma stai giocando a broolla con Joe io sa è venuta a voi perché Giovanni a broolla si sono risultati i serviti Giovanni a toccare a me e a ammazzare il mio amico forse perché vuole morire ah giusto lui non sa le norme del del paese dei degli gay vroci come allora scusa per le kill però sono incazzato nero è più forte di te quindi stai di schiavo la rana forse lo batteva perché ti è andato bravo con me ma tu lo sei con R2 o L2 puoi schivare genio io lo so ma comunque hai parlato e mi hai fatto perdere ma che è quello più chiaro Giovanni Giovanni vabbè dai oh mi intempo che prendo l'arma mi intempo che prendo l'arma Giovanni si è fatto doppio ma non fa la posta ecco questa potenza dominante è durata poco ma cosa se vi battiamo sono più nebo di tutti guarda no Giovanni battimi comunque ho vinto io cos'è cos'è no forza ho paura Daniele come questo è un combattimento è un allenamento ma che c***o Giovanni che preme solo triangolo è un rompì oh oh cosa come fa Daniele a non morire e poi andò la donna mia ma se è tutto programmato l'uomo perciò oh oh madame delui e inna blu non gelava mangatokani iscriviti al canale vabbè basta ma niente hai rotto vai fombari fatti ammazzare dai tanto alla fine si sa che è il pro dai oh eh lo so ci credo mi hai ammazzato pure una volta una volta beh non è vero ma perché tu non guarda mudo ma non mi ha fatto la schivata oh poveretto non ti ha fatto la schivata mi dispiace sei nabbo ok ammazzami ok arrivo la vita di voi vuole aspettare a non ero tipo oh a a vabbè l'agenda che si ne viscendo dopo di atta pure i rem così con ciò sono serici qualche tappeto si possa no aspetta scusa scusami no aspetta scusami no 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 Tornate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia. 15 secondi. Mancano 10 secondi. Smettete di difendere la stanza. Attività nemica. Neutralizzate la minaccia. Squadra d'attacco eliminata. Devo ricaricare. Devo chiedermi il nome. Mancino d'allevamento. Eh? Adonami 10 mi hai fatto venire quattro invertiti fila. Oddio. 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 Ah, ma se vuoi così vivo? Questa è quella dupla perché non è un altro lato per. Do you wanna build a wall? Missione fallita. Difensori neutralizzati. Manifestori neutralizzati. Grazie a tutti. Se rimani in questa zona, il nemico ti scoprirà. Ti hanno scoperto, torna indietro. Un solo difensore rimasto. Attività nemica, neutralizzate la minaccia. La squadra d'attacco ha eliminato i sensori. Non ci posso credere. Da così lontano? No, dai! La squadra d'attacco ha eliminato i sensori. La squadra d'attacco ha eliminato i sensori. La squadra d'attacco ha eliminato... Dio si è lottato. La squadra d'attacco ha eliminato i sensori. Dio si è lottato. Da nun vieni. dovevo ammazzare un tizio ma cosa? mi vengono in mezzo, mi vengono all'incontro mi vengono a prendere due se non dovevo ammazzare non ci vengono, mi vengono a prendere non mi vengono a prendere ho giocato alle occhi alle occhi gioco con Fortnite ma super del gioco a giochi di sparare come a lui che sono pure difficili un grado si un medico un medico un medico un modello Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì.